buongiorno avrei dovuto parlare di altro oggi ma voglio dire una cosa onestamente sono stanco sono stanco di tutto io non so ovvi sono antipatico non lo so non sono un uomo lo so benissimo ho i denti rovinati dal fumo e da un cazzotto preso in faccia da mio padre quando ero bambino io non lo so non so più esattamente cosa fare per aiutarvi io cerco di essere onesto di non raccontarvi le favole di non darvi illusioni di dirvi la realtà per quella che è così non ci sbattete muso se avete bisogno rispondo sempre a differenza di altri ho anche una scheda che riguarda alcune di vostri le vostre infezioni che non si possono risolvere sicuramente una giornata ma mi serve per ricordare cosa vi è successo cerco sempre di informarmi controllo e ricontrollo non è che non ho altro da fare io non lo so io non so sinceramente cosa devo fare d'altro sapete perché faccio questo discorso e prima che qualcuno dica cazzate tipo sei orsi con me mi risulta che abbiamo insieme e abbia mai detto a sui numeri che a mister lule elena radio uc radio barba anzi quando posso li cito sempre in modo che uno possa andare a scriversi devo canale vi risulta che mi abbia mai chiesto di mettere un like o di scrivere il mio canale quasi fosse un obbligo no se volete fare lo fate se non volete fare non lo fate non è una discriminante vi risulta che abbiamo mai risposto a qualcuno che mi faceva domande qui che sarebbe bastato guardare il video per avere una risposta e che quindi capivo benissimo che il video non era guardato ma vi risulta che aveva mai detto guardati il video non rispondevo lo stesso anche se poteva darmi fastidio perché ci sono cose più importanti piccolo fastidio però c'è un punto in cui non ce la fa più non gli avevo chiesto tempo fa ma non so diffondete i miei video condividete aiutatemi un po crescere il canale di fatto non è successo tranne con elena mi sono forse arrabbiato no vabbè se uno non lo vuole fare non lo vuole fare non non sono qui obbligare nessuno però una cosa da pretendere rispetto io avevo fatto un video ieri in cui vi dicevo alcuni stavano esattamente le cose ieri siamo caricato un post in cui mister lui dimostrava l'articolo di legge della legge del lega che mi diceva esattamente come stavano le cose non è una cosa di cui mi frega niente non è quello il problema quanti like ho preso perché non ve li ho mai chiesti solo che vi dico la verità quel cazzaro del cavolo nel video in cui vi ho raccontato una palla assurda ne ha fatte 11 mila io ne ho fatte poco più di 200 non me ne frega niente vi sembra che vi ha mai citato le viso di qualcun altro no però permettetemi di dire una cosa io la verità ve la dico vivano bene le balle andate a guardare i video di balle cosa devo fare io chiede ditemi cosa esattamente pretendete che faccia perché non lo capisco più più che cercare di aiutarmi in tutti i modi cosa devo fare più che rispondere a tutte le vostre domande quando posso qualcuno ha avuto anche la ghigna di dirmi che rispondo tardi come se non avessi un cazzo da fare questo quel periodo in cui stiamo recuperando gli esami e ci sono le sessioni semestrali evidentemente non può ne frega un accidente di miei problemi o di altre cose no devo essere in servizio io e chiedete perché allora non fate non chiedete la stessa cosa quel cazzaro 142 commenti sapete quanti ha risposto a due per mettere un cuoricino però non ha mai sono risposte di 142 commenti ce n'erano 138 positivi due che gli hanno fatto una critica ragionata e due che gli hanno fatto una critica generica io rispondo a tutti sì certo come ha detto un tizio guardati all'ipica nei pochi ma forse è vero forse dovrei fare così se vi piace quel tipo perché voi aiutate questo canale crescere inutile che ci prendiamo in giro non questo canale mio perché del mio è evidente che a parte elena ma evidentemente mi fa bene così mi piace quel tizio lì seguite quel tizio lì poi non venite qui da me però a dire e ma ha detto una cosa per sono andato la mia ha fatto un'altra cosa non venite chiederlo più a me io sono stanco sono stanco di essere l'utile idiota da cui si va quando fa comodo a cui spesso manco mettete un like perché io non me li chiedo però non voglio anche essere trattato come un cretino quando faccio una live io sono contento se siamo in 30 ma proprio lo considero una botta di ha fatto una live ieri questo tizio in cui eravate 111 e dico eravate perché c'erano c'eravate anche alcuni di voi alcuni che stanno guardando questo video erano la sotto e sapete cosa ha fatto questo tizio ha letto ha fatto una live basata su un articolo uscito mesi fa mesi fa il periodo estivo e voi tutti poi però arriva il coglione sono io io sono un coglione quando gli chiedete qualcosa va a controllare si fa il mazzo evidentemente secondo me non cazzo da fare io non ho mai chiesto non ho mai chiesto niente non vi ho chiesto di mettere line non mi ha chiesto di iscrivervi non mi ha chiesto un cazzo non ho mai chiesto una persona che mi chiedeva una cosa ti sei iscritto e hai messo il like no accetto le critiche e reagisco di conseguenza a volte mando giù anche dei bei rospi ma non ve lo vengo di sicuro a dire però poi saremo un punto in cui non ce la fa più non ce la fa più perché veramente in un contesto che se uno se alessandro fa 30.000 visual non gli dico niente sono contento per lui se elena ne fa 20.000 sono contenta per lei ma che un cazzaro ne faccia 11.000 in cui viene lodato e sbrodolato io mi devo fare il culo poi per 200 visual di cui mi fregherebbe un cazzo ve lo dico non mi fregherebbe niente niente se non mi sentissi il cane a cui si tira l'osso ogni tanto perché questo che io non so forse mi vedete così quando gli altri non rispondono c'è sempre il coglione ebre avete capito qui si può sempre chiedere qualcosa ovviamente il like se ne abbiamo voglia l'iscrizione quando mai ma tanto quello è scemo ci aiuta sempre non chiede niente in cambio e allora continuiamo trattiamolo così io vi faccio una sola domanda adesso datemi una ragione per continuare datemi una ragione per continuare perché io non ne ho più ragione per continuare